è una mattina perfetta per incontrare questi famosi uccelli i catala o cacatua delle filippine nidificano poco lontano da nara sono con i ricercatori ana ogulu e joshua nunos ci stiamo dirigendo a un chilometro e mezzo di distanza all'isola di rasa urlata dalle mangrovie rasa è una piattaforma di corallo è diventata una riserva nel 2006 scendiamo qui ci raggiungono i ranger che risiedono sul posto per proteggere i pappagalli la maggior parte proviene dall'etnia tagbanua salve sono nigel piacere salve ciao stanno controllando un nido di catala oggi esamineranno i fulcini il cestino è fondamentale questo è l'albero del nido è imponente e i ranger si arrampicano fin lassù il nido di catala è a 30 metri da terra noi noi sale così in fretta è quasi arrivato è vicino alla cavità del nido i genitori protestano non sanno che è un protettore non un predatore in passato questi uomini avrebbero sottratto i pulcini per venderli come animali da compagnia oggi cercano di salvarli il primo pulcino mi sa che ne prende un altro sì e un altro credo che siano tre wow i catala sono noti anche come cacatua delle filippine eccoli non resisto devo vederli da vicino ma guardateli sono adorabili i pulcini saranno esaminati pesati e inanellati il più rapidamente possibile 345 grammi è un buon peso sì questi pulcini sono davvero sani sì un pulcino pimpante ha sollevato la cresta si rilassano quasi subito vero effettuate le misurazioni su tutti i pulcini nati qui sì il prossimo pulcino è un po più indietro ma comunque sta bene 40 41 anna qual è l'età dei pulcini questo è un mese i genitori nutrono i nidiacei rigurgitando una poltiglia di semi e frutti il pulcino numero 3 si calma subito appena ana lo prende in braccio tutti i pulcini di cacatua sono inanellati sì su ogni anello c'è un numero per poter identificare i vari esemplari ana posso mettere l'ultimo nel cestino sì l'ho preso è un tale privilegio sei un pappagallo molto carino dentro ecco fatto ottimo lavoro avete rilevato i dati e inanellato i pulcini meno di mezz'ora sì tra poco torneranno nel nido bravi è stato bello vedervi al lavoro grazie infinite grazie grazie tante l'isola di rasa è perfetta per nidificare ma c'è poco cibo perciò i cacatua devono volare fino alla terraferma per procurarselo oggi i catala sono ben accolti nei villaggi questi uccelli vengono anche chiamati cacatua dalla cloaca rossa sono impegnati a nutrirsi su un albero di moringa dai lunghi baccelli che i cacatua amano aprire con il becco e le zampe dopo aver aperto i baccelli mangiano i seminieri contenuti all'interno la catala foundation protegge questi alberi in passato i catala si trovavano in molte isole dell'arcipelago filippino poi sono diventati sempre più rari avrebbero potuto scomparire da qui se non fosse stato per la notevole attività di tutela oggi ce ne sono più di mille attività di tutelare